Ciao a tutti ragazzi, sono Dav e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Siamo oggi con il quindicesimo episodio del Road to Prima Divisione. Siamo dunque con la nostra solita Formations Serie A 4-3-3, andiamo ad affrontare il primo avversario di oggi, l'avete appena visto. Partiamo immediatamente con il Pepita, Higuain in vantaggio dopo questa ribattuta del portiere, arriva proprio lui col colpo di testa a segnare il gol del vantaggio, che però il mio avversario raggiungerà nella ripresa, siamo al cinquantasettesimo minuto con questo colpo di testa. Addirittura si porta in vantaggio con Burak Ilmaz che vince un contrasto e poi appoggia sul primo palo il gol del 2-1. Vantaggio avversario che riusciamo qui con Higuain a servire Danielino De Rossi che incrocia sul secondo palo per il gol del pareggio, due pari che addirittura riusciamo a ribaltare con Gervinio che entra in area, supera un uomo assist, scusate, tiro fantastico per il gol del 3-2, quindi 81esimo 3-2 risultato, riusciamo anche con il Pepita Higuain a segnare il gol che chiude definitivamente la partita. Sul risultato di 4-2 al 90esimo minuto, vantaggio duplicato dei nostri, quindi doppio vantaggio, siamo a 46 punti, due vittorie, due sconfitte è il parziale di questa divisione e possiamo andare ad affrontare la seconda partita di oggi, questa è la Barclays Premier League con Balotelli e Sterling, davvero devastanti, qui è Turbe a portarci immediatamente in vantaggio dopo appena 1 minuto e 40 secondi, traversa gol per il vantaggio dei nostri, poi arriverà Young con il gol del pareggio dopo 10 minuti di gioco e qualche minuto più tardi arriverà il 2-1 di Walcott che addirittura porta in vantaggio al mio avversario, riusciamo qui con De Rossi che serve Pjanic a segnare il gol del pareggio, è il 18esimo sul cronometro, poi De Rossi entra in area, scarica il gol del 3-2 che ci vede nuovamente in vantaggio, però guardate qui ancora Sterling, è velocissimo ragazzi, davvero un giocatore fantastico questo, segna il gol del pareggio quindi 3-3 e poi arriva lo suiti gol, gol della merda con Balotelli che serve ancora Sterling per il gol del 4-3, 4-3 sarà anche il risultato finale ed è questo il risultato che ci condanna alla terza sconfitta di questa divisione, siamo ancora naturalmente in gioco e andiamo ad affrontare la terza partita di oggi, siamo alla ripresa appena iniziata, quindi 46esimo minuto per il vantaggio del PP Teguain, poi arriverà dopo questa torreversione dal corner il gol di Diego Costa che pareggia i conti, poi Turbe, siamo al 71esimo minuto, piazza sul secondo palo in contropiede per il gol del 2-1, Miralem Pjanic non falisce il rigore che ci porta sul doppio vantaggio, siamo al 76esimo, arriverà anche il gol con Gervigno con questo palonetto favoloso, 4-1 dei nostri, 85esimo sul cronometro, si conclude il match su questo risultato, 491 sono i credit che andiamo a guadagnare, saliamo a quota 9 punti, 3 vittorie, 3 sconfitte è il nostro parziale e possiamo andare a affrontare la quarta partita di oggi sempre con Super Mario Balotelli, un altro con Mario lì davanti, Pjanic ci porta in vantaggio, siamo al minuto 2, poi ancora un'attimazione dei nostri con Iguain che prova il palonetto, poi qua errore della difesa che non spazza, un rapace d'aria il Pipita che segna il gol del 2-0, Super Mario qui invece a servire mai con Douglas per il gol che accorce le distanze al 22esimo minuto, poi 3 minuti più tardi al 25esimo, arriva anche il gol del Ceravio, molto bravo nel superare Buffon, 2-2 che riusciamo a rimettere in carreggiata con questo 3-2, quindi vantaggio dei nostri che raddoppiamo con il Pipita e Guain, ma qui i nostri commettono un errore madornale, guardate si siedono proprio su questo risultato, poi fortunato anche in questo frangente il mio avversario, perché Maicon spazza su di lui praticamente e poi al novantesimo la beffa di Super Mario Barotelli che segna il gol del 4-4, purtroppo buttiamo via due punti e andiamo a guadagnare soltanto un pareggio, quindi un punto per i nostri, saliamo a quota 10, salvezza ormai raggiunta, mancano 3 partite e andiamo a vedere questa quinta partita di oggi, vantaggio avversario con questo colpo di testa su corner di Paul Pogba, poi è Gervinio a segnare il gol che ci riporta in pareggio, sul risultato di 1-1 siamo al 28esimo, qui è De Rossi a scaricare questo tiro al volo che ci porta in vantaggio, poi il corner di Maicon Douglas per la testa di Yang Wambiwa, per il 3-1 i turbi, devastante tira, si vede anche parare questo tiro, ma non so come il mio avversario sigla questo autogol, non so cosa possa essere successo, non ci interessa 4-1 per i nostri, 13esimo minuto, 4 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, cazzo dico 13esimo minuto e 13 punti, e possiamo andare a vedere la partita che ci vede subito in svantaggio qui con questo gol di Welbeck che metterà il turbo anche al 16esimo minuto e siglerà il gol del 2-0, quindi doppio vantaggio dopo appena un quarto d'ora di gioco, riusciamo ad accorciare il risultato con Juan Manuel Iturbe imbeccato da questa bellissima verticalizzazione, per il gol del 2-1 arriverà poi il 3-1 di Zeko con questo cross dalla corsia di destra che ci dà il doppio svantaggio, poi ancora Welbeck in velocità supera Gigi Buffon e appoggia in rete per purtroppo il gol del 4-1, 4-1 che vediamo di poter recuperare con questo gol che arriverà da calcio di punizione e Higuain a firmare il 4-2, siamo al 65esimo minuto, al 76esimo addirittura riusciamo anche a segnare con Borca Valero il gol del 4-3 che ci dà le ultime speranze ed è proprio così, infatti Gervinio arriverà velocissimo sulla corsia di sinistra, appoggia per Juan Manuel Iturbe, siamo all'85esimo minuto 4-4, pareggio proprio assolutamente meritato come avete visto anche delle statistiche, quindi un punto che ci porta a quota 14, andiamo a vedere adesso l'ultima partita di questo episodio con Gervinio che se ne va sulla corsia di sinistra, la palla poi arriva sui piedi di Borca Valero che prova una mezza rovesciata ma il pallone non entra, occasione qui per i nostri avversari che guardate qui con questo retropassaggio siamo sfortunati, il nostro portiere respinge male, arriva Tarabt che firma il gol dell'1-0, poi guardate Gomez si immola sulla difesa avversaria e scarica questo destro che viene parato, non ci sono più occasioni, finisce qui, questo match non riusciamo a passare, meritiamo comunque questa salvezza, quota 14 punti, ci bastava vincere, non ce l'abbiamo fatta, questo match si conclude dunque così, questo episodio anche, io vi saluto raga, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, passate la pagina Facebook e noi ci vediamo al prossimo video.